Ben tornati ad ore 7, è arrivato il momento dell'ospite. Abbiamo parlato, guardando i quotidiani locali di oggi, delle riaperture, delle ripartenze. Ieri la scuola è in presenza per le classi, seconda e terza delle scuole medie e per le superiori, ma hanno riaperto anche i negozi, i saloni di parrucchiere e i centri estetici, anche se diverse parrucchiere riapriranno oggi. Allora, ne parliamo con Loredana Ponta, che è la presidente di Confartigianato del comparto Benessere. Buongiorno e ben ritrovata qui ad ore 7. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito Alexis, grazie. Allora, c'eravamo sentite tempo fa, proprio per fare chiarezza sulla possibile riapertura o meno, ma per parlare anche di come avete vissuto il lockdown, anche voi, sia lo scorso anno che quest'anno. Insomma, dopo diverse settimane avete riaperto. Ieri già gran parte, soprattutto leggevo nel Monfalconese, hanno riaperto, ma qualcuno ha anche già a Udine. Sappiamo che però i saloni di parrucchiere generalmente lunedì sono chiusi. La riapertura vera sarà oggi. Come è andata ieri e come andrà oggi questo avvio? Allora, abbiamo mandato una lettera a tutti i 250 sindaci dei comuni del Friuli Venezia Giulia per avere una deroga sulle aperture. Diciamo che i sindaci già sabato hanno risposto e anche domenica e li ringraziamo vivamente. Abbiamo fatto un bel lavoro e ringrazio anche il Presidente Tilatti perché con questa lettera abbiamo potuto aprire il lunedì. Abbiamo delle deroghe fino a 13 ore al giorno. Dai, ce la faremo. C'è voglia di ripartire, di lavorare il più possibile, proprio per recuperare il tempo perso, ma non solo tempo, anche soldi persi. Perché che tipo di percentuale possiamo dare di perdita, sia per quanto riguarda i saloni di parrucchiere che di centri estetici? Allora, con il decreto sostegni qualche attività, più di qualche attività non rientra perché devi avere una perdita più del 30%. Qualcuno è proprio poco al di sotto del 30% e questa è un po' una beffa, ecco. Infatti i ristori, sostanzialmente irrisori sono stati? Sì, sì, sì. Purtroppo sì. Comunque anche i ristori dell'anno scorso, se facciamo un calcolo, quello che ha dato l'Inps erano 1.000, 1.200, ma quando paghi i contributi a maggio 1.100, con 100 euro al mese non vivi. No. Sono stati... Infatti voi avete chiesto questa deroga attraverso la lettera che abbiamo anche noi di Confartigianato, dove appunto chiedete di tenere aperto oltre il normale dalle 5.30 del mattino alle 21.30 della sera, con riposo settimanale facoltativo e possibilità di aperture festive. Dunque c'è la possibilità che centri estetici e parrucchiere possano lavorare anche nelle giornate di lunedì, ma anche di domenica, nei festivi. C'è questa possibilità? Sì, c'è questa possibilità e questa è un'opportunità, però dobbiamo pensare anche che non dobbiamo stressarci troppo perché insomma anche la nostra salute ha un grande valore. Faremo questo perché dobbiamo contingentare gli ingressi, perciò due attesta, arieggiare, igienizzare, dalle maniglie alle poltrone. Lo facevamo prima di adesso, ma adesso siamo diventati addirittura maniacali di questa igiene e di questa sicurezza che noi vogliamo dare al massimo. Quindi siete pronti a tenere aperto il più possibile e il lavoro non manca. Ieri a Monfalcone c'era gente fuori nei saloni che attendeva di entrare, ho visto nei giornali di oggi. Quindi davvero le agende adesso iniziano ad essere ricche di appuntamenti e questo è già un bel segnale per voi. Sì, sì, è gratificante. Diciamo che le clienti non hanno assolutamente paura, proprio ho sentito anche i miei colleghi. Sono felicissime perché il parrucchiere è l'isola Felice. Infatti una mia cliente dice sempre, toglietemi tutto ma non il parrucchiere, assolutamente. Dopo tutte queste settimane ci sarà anche bisogno di un restyling, immagino, per diversi. Però diciamo che come avete vissuto? Noi ci eravamo sentite tempo fa proprio per il tema dell'abusivismo. Adesso guardiamo avanti. Però come avete vissuto queste settimane? Magari anche con la voglia di rinnovare il salone c'è chi ha approfittato per fare dei lavori nei centri estetici, nelle strutture, proprio per ripartire ancora più in sicurezza, anche se eravate già pronti prima, perché avete fatto diversi investimenti per i plexiglass, per gli igienizzanti, per i vari divisori, per permettere le distanze. Insomma avete già investito tanto, ma c'è qualcuno che magari ha deciso anche solo di imbiancare, dare una rinfrescata, giusto per tenersi, per passare queste settimane. Insomma sono di diversi che hanno dedicato alla ristrutturazione della struttura, del centro. Beh questo è fondamentale. È fondamentale e non lo facciamo solo nel periodo dei lockdown. Noi ci teniamo a dare la novità, a avere sempre qualcosa di nuovo in negozio e questo è un valore aggiunto, un grande valore aggiunto che il cliente apprezza, il cliente veramente si sente coccolato al massimo. Tra poco aprirai tu il salone tra 20 minuti, ieri non l'hai aperto, aprirai ufficialmente oggi, che sensazioni vivi in questo momento? L'ho aperto ieri, io l'ho aperto, ma lavorare è libertà, lavorare è la cosa più bella che uno può fare. Ti togli i pensieri, cioè i guai se manca il lavoro, guai un altro lockdown. Direi che anche, io lo spero che non accada, ecco, anche perché da maggio in poi si avvicinano i matrimoni, si avvicinano gli eventi, speriamo di poter fare questi eventi e fare un cassetto che sia diverso da quello del lockdown. Assolutamente, insomma c'è voglia di normalità, di ripartire sempre in sicurezza. Sì, dimmi, dimmi. No, no, tanta voglia di normalità, come dicevi tu Alexi, sì sì. Eh sì. No, il telefono suona comunque, il telefono suona, tranquilli. Il telefono suona e questo è davvero un buon segnale. Comunque quest'anno ci ha trovato meno impreparati, perché sia da parte nostra sia da parte del cliente. Abbiamo aggiunto dei codici a tecco, chi ha aperto un e-commerce online, chi ha consegnato a domicilio i prodotti. Ci siamo veramente premuniti di tanti mezzi e anche i mezzi di social, di comunicazione. Cioè abbiamo ampliato veramente un grande bacino dove rimanere in contatto con il cliente. E questo è stato fondamentale. E il cliente stesso anche. Sì, questo stop vi ha dato la possibilità di reinventarvi, di darvi ulteriori possibilità. Io ti ringrazio, Loredana, Presidente di Confartigianato Benessere, Loredana Ponta. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, buon lavoro a tutti i colleghi. E andate dal parrucciere. Assolutamente, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie per questo collegamento Skype. Grazie.